Spesso gli imprenditori ti dicono, noi abbiamo tecnologia, capacità, know-how, esportiamo, vorremmo crescere, ma non troviamo forza lavoro. Perché il messaggio che noi stiamo dando ai nostri ragazzi è un messaggio sostanzialmente assistenzialista. Cioè quello che si dice non è sosteniamo l'impresa e sosteniamo l'economia reale, creiamo posti di lavoro. Si dice alla fine non ti preoccupare, qualcuno si occuperà di te, arriverà un sussidio, un reddito di cittadinanza, un reddito di emergenza, una cassa integrazione, ma questi sono soldi spesi, non sono soldi investiti. Quello che noi dovremmo fare qui è andare dai nostri imprenditori e dire come possiamo fare a fare in modo che voi create più ricchezza per i nostri ragazzi, come possiamo fare in modo che i posti di lavoro aumentino perché voi crescete. Dovremmo andare dai nostri ragazzi e dire ragazzi ma lo sapete che le barriere all'ingresso dell'attività d'impresa sono diminuite. Eterberg non era un ereditiere, era uno studente che ha avuto una idea geniale e da lì ha costruito un impero. Con la tecnologia le barriere d'ingresso all'attività d'impresa sono diminuite. Noi dovremmo dire ai nostri ragazzi sburocratizziamo, digitalizziamo, investiamo sul vostro talento. Non aspettate il reddito di cittadinanza, usate i vostri cervelli perché questa è una regione di gente intraprendente, operosa, che sa fare, che vuole fare e io credo che la politica debba fare assolutamente questo, debba metterlo in cima alle sue priorità.